Andare allo stadio per vedere l'Atalanta a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, lasciando comunque a casa l'auto. È l'innovazione che il comune di Bergamo, di concerto con i dirigenti atalantini e ATB, adotterà in occasione del prossimo campionato. In una lettera il vice sindaco Gianfranco Ceci ha spiegato le novità relative al traffico e ai parcheggi nella zona dello stadio. Chi possiede biglietto o abbonamento per il match potrà salire gratuitamente sui pullman cittadini per tutta la giornata della partita. La novità verrà introdotta a cominciare la domenica prossima con la Lazio e sarà anche accompagnata da una ZTL zona traffico limitato dal 23 di settembre, giorno della seconda partita casalinga quella contro il Palermo. Non verrà istituita in occasione della Lazio soltanto perché in concomitanza con la festa cittadina di Sant'Alessandro. La zona traffico limitato riguarderà dunque le successive 18 partite casalinghe dei Nerazzurri e sarà nel quadrilatero compreso tra Borgo Santa Caterina, Via Baioni, Via Pescaria e la Circonvalazione Plorzano. Diversi appassionati però si sono già dichiarati perplessi sul fatto di dover parcheggiare il proprio mezzo così lontano dallo stadio. Non solo, si registra anche la levata di scudi da parte di alcuni ristoratori di Borgo Santa Caterina. Per loro le chiusure al traffico per l'intera giornata rappresenterebbero infatti un forte danno economico a causa della impossibilità di raggiungerli. E in una lettera aperta hanno chiesto all'assessore Ceci di non dimenticarsi delle loro attività durante i turni di campionato domenicali e serali. Il problema, aggiungono, in Città Alta è stato ad esempio risolto con una comunicazione da parte dei ristoratori delle targhe delle auto dei propri clienti.